Anche tu è in Lamborghini? Sì. Sì? Sei contento di andarci? Sì. Non vedi l'ora? Sì. E date un orologio a questo bimbo. Ma la vede, ma la vede. La vedi l'ora? Ecco qua. Guarda sta arrivando, sta arrivando. Sei pronto? Com'è andata? Com'è andata? Una prima impressione? Bellissimo. Bellissimo? Da rifare assolutamente. Quindi è da rifare? Sì. Ok, la biglietteria è lì. Vai. Ah, sto ritentando. Bravissimo. Ok, ci siamo? No. Ragazzi, mi faccio vedere una partenza sprint. Va bene? Vai, vai, procedi. Vai, vai. E che cos'è ragazzi? Guarda la macchina mia, identica. Ci sei? Vai. Ci sono, ci sono. Guanti. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Così, così, tira. Così, così, tira. Ma volevo fare una ripresa fluida. Ma qual è fluida? Aspetta, è in un'esagerata. Vai. Mi raccomando, allora. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Com'è andata? Benissimo Bella esperienza Buongiorno ragazzo, quindi sei in attesa tu Non di un bambino ma della Ferrari Per fortuna Te l'ha regalato lei, ho saputo, giusto? Ovvio, ovvio Però guida anche lei Eccola qua Vediamo un po' Piano 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 Oh, via Eccoci qua Com'è andata? Spontacolare Oh, ma hai corso talmente tanto che hai perso il casco Vai! Ok, siamo pronti? Sì, via Sì, via Barre Che stanno dicendo? Stavo, diciamo, ricapitolando tutto il percorso Tutto il percorso Ma avete fatto il giro di perlustrazione? Tutte e due Tutte e due? Ah, perfetto E lei niente? No, io sono accompagnatrice Ah, ok Sono l'artefice Tutto Ah, la camera Aspetta, Antonella Antonella, mantieni qua Fai tu C'è la faccia a cambiare la camera? Sì, sì, vai Vado Ah, un impatto Aspettate ragazzi un attimo Alessia sei pronta a questo giro? Sì, siamo pronti Attenzione Vanno Raffaele Gennaro sei pronto? Sì Ok? Ciao Buon divertimento Ciao ciao Aspettate Allora qui abbiamo un'intera famiglia che sta trovando Sono Gennaro mio figlio Gennaro vostro figlio Ma lei è emozionata? Sì Ma lei guiderà Luca? No, io sarò al fianco Ah al fianco Ok La prossima volta guida La prossima Vediamo Gennaro cosa ne pensa Vediamo Gennaro cosa dice Lo vedo un po' impaurito Gennaro come è stato? Gennaro come è stato? Gennaro Come è stato? Ti è piaciuto? Bellissimo Bello? Non ti fai così? Sì Ho fatto tardi Ho fatto tardi Ragazzi ho fatto tardi allora Già partito? Nooo Buongiorissimo Ah ok ok Posso riprendere? Posso riprendere? Quindi non ho capito E' emozionante Abbastanza? Sì? Ma voglio cosa dire Mi ha fatto sorridere Cosa ha detto? Ti mettiamo un pannolino Ma Lamborghini o Ferrari? Lamborghini Ah Lamborghini, bella Tu che dici? Ma anche tu fai il giro? No E io ti vedo col bigliettino Hai fatto prima il giro? Ah già l'hai fatto prima È stato bello? Sì Hai avuto paura? No 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 Lui è coraggio Ma solo dei freni Solo dei freni Ah solo dei freni? Volevi far accelerare? Bravissima Ciao ciao Francesca com'è andata allora la giornata? Ah Ancora devi iniziare la giornata Ok Siamo ancora a inizio Non farò sapere più tardi Ok Vieni vieni Vabbè dal sorriso credo che è andata bene E' da rifare E' da rifare? Vabbè dopo provi la Ferrari Sì dove devo provare la Ferrari Ok grande Però come esperienza? È stupenda Positiva? La consigli allora? Vabbè allora è da ripetere La signora si è divertita di più E abbiamo provato anche la Ferrari Eh sì Questa è stata più emozionata o meno emozionata? Questa di più Questa di più Questa di più? Sì Perché la mia passione è la Ferrari Ah ok Quindi ne è valsa la pena Sì siccome Lo rifare anche un'altra volta Ok Grazie Prendo un po' di backstage qua Ragazzi voi dovete guidare? Sì 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 siamo una ragazza Ciao 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 Ho visto bene la testa di Gennaro? Non si chiama Non si chiama Com'è andata? Aspettabile Da ripetere? Sicuramente Bella emozione? Esagerabile Ma per il caso il Mercedes è parcheggiato dietro? Buongiorno Ragazzi ma anche voi dovete guidare? Io Che auto dovete guidare? La Lamborghini Ah solo tu guidi Ok Ti avviso che la Lamborghini Eh lo so Stiamo aspettando me Per giocare la lua Ok